bella raga dal vostro grande capitano napoli sempre forza napoli e benvenuti in questo nuovo video andiamo ad analizzare la situazione il momento difficile del napoli che adesso c'è la sosta di questo campionato andiamo ad analizzare tutte siamo sicuramente molto delusi per l'inizio di questo campionato del napoli che sinceramente speravamo molto molto migliore comunque c'è da dire che alla fin fine di determinante mancano addirittura i tre punti nella partita col cagliari come voi ben sapete il napoli ha cercato di sbilanciarsi sempre di più in minuti di finale cercare di vincere la partita con i miracoli del portiere due pali in contropiede il novantesimo ha fatto il gol cagliari e ha vinto la partita come sfortunata anche la pratica torino contro la juve dove si nei primi 60 minuti hanno dominato gli avversari ma siamo arrivati fino al 3 3 e clamoroso purtroppo autogol di culibre lì al minuto 93 io dico di stare vicini alla squadra la cosa positiva che per una grande squadra da scudetto o per lottare per vincere lo scuoto prima cosa deve sistemare la difesa in questo momento lo sta facendo deve ricominciare di funzionare come all'inizio campionato l'attacco perché 4 ha fatto scusatemi 4 gol prima giornata 3 gol la seconda andava alla media di da meglio di quasi 3 4 gol la partita ci siamo sistemati dietro mereto un grande portiere di lorenzo benavento che sarebbe stato convocato in nazionale ma non l'asse non si discute adesso tornerà culibali beccandosi ben due giornate di squalifica napoli verona tornerà speriamo già con il verone di ritrovare il miglior colibali comunque in questo problema i problemi sono diciamo nella finalizzazione finale dell'azione quindi speriamo che il ritorno alla verba è giusto milic non è così tanto scarso che si è dalla croce ad osso l'ultima partita non ha giocato neanche un minuto è un centravante che alla fin fine l'anno scorso ha fatto 20 gol per campionate coppia si è fatto vedere quello che vale lo stesso all'oriente è un grande centravante che può dare un avanto lo stesso mercenzi perché mica possiamo pretendere che può segnare tutte le partite e bisogna che insigne insomma si decida con ancelotti che trova insomma una buona intensa tra loro due staremo a vedere ricorda stiamo uniti vicini alla squadra questo momento difficile passerà se napoli riprenderà speriamo a fare due tre quattro vittorie da fila tornerà nel giro di un mesetto secondo in classifica e tutte queste polemiche saranno finite come l'assurde persone che addirittura vorrebbero già l'esonero di ancelotti questo mi ricordo era già il primo anno di mi ricordo secondo anche di sari che le cose non avevano bene sin dall'inizio volevano l'esonero anche di sari e dopo quanto il napoli un po la volta ha fatto la rimunta le primissime posizioni di campionato tutte queste polemiche erano finite vi auguro un buon proseguimento di giornata la vostra grande capita napoli mettete un like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale stiamo vicini uniti alla squadra noi tifosi la squadra unite e compatti solo in questo caso si esce da questa temporanea crisi si tornano vincere sempre forza napoli ciò